buongiorno amici eccoci qua allora qua stanotte la nebbia ha fatto una vittima questa è un collega che si è andato all'arena sull'erba buongiorno amici l'hanno tirato fuori buongiorno ragazzi allora ieri sera mi sono affermato che era tardi le 11.75 eccoci qua stamattina sono le 8.75 scaricato e via adesso si va a caricare qua ci sta un po' di nebbia ma niente di preoccupante adesso vediamo se andando verso il mare e verso la romea migliora o peggiora la romea migliora 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 a l'arimba migliora la romea migliora la romea migliora la romea migliora Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Buon weekend e ci vediamo presto come sempre. Saluti a tutti. Grazie a tutti.